E' stato convocato per il prossimo 30 luglio il Consiglio Comunale di Bellizzi. All'ordine del giorno l'assestamento generale di bilancio, una serie di debiti fuori bilancio e l'adesione all'iniziativa della comunità di Sant'Egidio, città per la vita, città contro la pena di morte. La seduta, come di consueto, si terrà presso l'aula consigliare di via Manin alle ore 17.